Il paese che resta nel cuore. Con questo slogan è stato presentato il video promozionale di Castiglione Messerraimondo, comune del Terramano martorriato nella prima ondata del covid-19 per l'alto numero di contagi e di vittime, 16 su circa 2200 abitanti. Il video realizzato dal regista Maurizio Forcella e ideato dalla giornalista Evelina Frisa, in pochi minuti ripercorre per immagini un luogo che, come recita lo spot, chi ha conosciuto, non dimentica. Abbiamo creduto molto in questo lavoro, commenta il sindaco di Castiglione Vincenzo D'Ercole, trovandolo utile e vincente. In pochi minuti il video sintetizza l'essenza del nostro territorio, non solo mostrando nei luoghi noti e meno noti, ma anche le persone e lo stile di vita, essendo di taglio antropologico. Castiglione Messerraimondo è paragonata a una persona, il cui ricordo è vivo nella mente dell'anziana protagonista che si affida ad una coccinella per poterlo ritrovare. Parte così il viaggio verso questa località, la vita quotidiana con le ore scandite dalle campane, le donne che ricavano su delle scale o che nelle case preparano il pane o la pasta. È un lavoro che punta alla descrizione della vita quotidiana, continua il giovane sindaco, al suo scorrere lento in un piccolo centro come il nostro. Castiglione è un paese che resta nel cuore per molti motivi, per questo invitiamo tutti a scoprirlo e conoscerlo. Le musiche originali sono state composte da Gianluigi Antonelli. Per il brano Cervavì, originariamente cantato da Innocenza Feliciani, ci si è avvalsi della consulenza dell'etnomusicologo Gianfranco Spitilli. Crediamo molto nel marketing territoriale, guardiamo al futuro e stiamo cercando di far conoscere la nostra realtà il più possibile in Abruzzo e ovviamente fuori regione. Ringrazio ovviamente anche quanti hanno lavorato a questo video che in primavera vorremmo mostrare nel corso di un incontro pubblico durante un convegno incentrato sulla promozione del territorio. Chiude il sindaco D'Ercole.